Presentata a Palazzo del Governo stamattina, la manifestazione è stata con noi agosto 2011, promossa dalla Proloco di Montemesola con il patrocinio della Regione Puglia, della provincia, della Comune di Montemesola e dell'Unione Nazionale delle Proloco. Si parte il 5 agosto con la decima Sagra delle Fave Bianche, il primo raduno nazionale dei cortei storici, per proseguire il giorno dopo con la Sagra delle Orecchiette dei Maritati. Attesissimo domenica 7 il 38esimo Festival dei Baffi, che si svolgerà in contemporanea con la Sagra dell'Arrosso, replicata il 9. Nella serata del 10 agosto invece ci sarà la seconda Sagra della Terra al Mare. Il fine è quello di promuovere e valorizzare le eccellenze no gastronomiche del territorio attraverso iniziative di sapore prettamente estivo e turistico. Un ringraziamento che passa anche attraverso la nostra collaborazione con questa manifestazione e la promozione del marchio di terra ionica unica che sta ad indicare che anche questa fa parte dell'eccellenza del nostro territorio. Ci saranno inoltre l'8 agosto un'esposizione di moto a cura della Vespa Club di Crispiano e momenti musicali con il Festival Canoro Terra Ionica Unica, il 9. Ogni sera la festa della Puccia Fritta e le 7 verranno realizzate le mozzarella dal vivo.